1, 2, 3, azione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi sono qui per augurarvi la non andata a scuola per la neve. Quindi vi canterò regale del sogno che sarebbe quello di non andare a scuola, però incominciamo subito! Amico dimmi come si fa, dove si fa a raggiungere la felicità, come si fa a voglio andare dove nascondi i sogni, dove i sogni sono realtà. Regalerò un sogno a chi di sogni non ne ha, perché non so che un sogno è un raggio di libertà. E troverò quel mondo magico, dove quel che sogni è. E se ancora la strada non so, one day you'll find your way. Quando ogni giorno i sogni se ne andranno, come tante illusione, stanchi ma felici forse giocheranno. Pensi tra le nuvole, gabbiano tu che puoi, segui lì fin lassù. Sai dire la mia strada qual è, dimmi qual è, aiutami a cercare dov'è. Tu sai dove voglio andare, dove nascondi i sogni, perché sempre in quel posto c'è. One day you'll find your way. Regalerò il sogno a chi di sogni non ne ha, perché io so che un sogno è un raggio di libertà. E troverò quel mondo magico, dove quel che sogni è. E se ancora la strada non so, one day you'll find your way. Regalerò il sogno a chi di sogni non ne ha, perché io so che un sogno è un raggio di libertà. Regalerò il sogno a chi di sogni non ne ha, perché io so che un sogno è un raggio di libertà. Non dimenticate di iscrivervi al canale e ciao!